Grazie a tutti Per dare un po' di continuità anche al nostro telegiornale, occhio alla notizia, abbiamo letto la notizia che riguarda Ancona, il sindaco Valerio Mancinelli ha firmato un'ordinanza per disporre l'obbligo della mascherina in determinate zone, in determinati orari della città. Che cosa ne pensa e se anche voi pensate di prendere questo provvedimento? Sicuramente è un'iniziativa condivisibile, noi chiaramente siamo una città molto più piccola, stiamo molto attenti di quello che accade nella città, intanto stiamo vedendo di applicare le regole che sono state messe, quindi che sono abbastanza restrittive da parte del governo centrale, quindi però i prossimi giorni valuteremo anche noi se è il caso di applicare una regola come questa della mascherina che è importantissima. Ci limitiamo per ora a chiedere ai cittadini di tenere la mascherina adeguatamente perché non siamo fuori completamente dalla pandemia, i numeri ce lo dicono, però soprattutto io credo che sia opportuno vaccinarsi intanto. Poi quando siamo vaccinati i dati ci dicono, questa sera me lo diceva il dottor Liverani, che appunto chi è vaccinato anche se si infetta non va raramente all'ospedale o comunque in terapia intensiva, quindi questo è l'aspetto importante, quindi vaccinarsi, raccomandare la vaccinazione è l'elemento principe secondo me. In diverse città delle Marche, anche a Dancona, sono state elevate le prime sanzioni inerenti al Super Green Pass, multe da 400 euro per mancato possesso appunto di certificato verde all'interno di autobus o di esercizi pubblici. Nella nostra provincia, perlomeno per quanto riguarda Adria Bus, abbiamo parlato proprio con l'Aro Ottaviani, non sono state elevate sanzioni, però sono stati fatti controlli. A Rubino qual è la situazione? La situazione per ora non conosco appunto l'elevazione di sanzioni ai cittadini, però i controlli ci saranno e sono stati concordati con le forze dell'ordine, con la prefettura, quindi anche a Urbino come in tutto il territorio saranno fatti controlli stringenti. Ha dato una stretta anche per quanto riguarda la movida, la somministrazione di bevande alcoliche, vige ancora un'ordinanza? Sì, vige ancora un'ordinanza che anche se è scaduta quella della chiusura dei locali che è durata due mesi, adesso vige un'ordinanza mia per 30 giorni fino al 15 di dicembre che vieta la somministrazione dell'alcol nei locali oltre le 1 e mezza di mattina, quindi per tutti i locali. Quindi staremo i prossimi giorni, domani stesso abbiamo un incontro con gli esercenti, con gli operatori commerciali proprio per valutare anche le proposte che vengono da loro. Questa mia ordinanza, questa discussa ordinanza che però ha portato, scontestata, però c'è stata una presa di coscienza da parte degli operatori con le loro associazioni, che ringrazio, che bisogna comunque autoregolamentarsi perché bisogna vivere la città ma far vivere anche chi ci vive. Quindi questa è stata la presa di coscienza da parte degli esercenti. E quindi domani deciderete se appunto... Sì, domani abbiamo un ulteriore incontro con appunto le associazioni di categoria e chiaramente spero anche con gli esercenti stessi che hanno partecipato a diverse riunioni e hanno anche stilato un documento che ci hanno portato come amministrazione, l'hanno portato a me, firmato da tutti, quasi tutti credo gli esercenti, che chiedevano chiaramente di andare un po' più avanti nella notte, però chiudere una certa ora e collaborare con della... Delle forze, diciamo anche private di... Di controllo messe da parte degli esercenti. Quindi ecco, speriamo di riuscire con una collaborazione fra amministrazione, forze dell'ordine e cittadini, esercenti e anche i giovani, studenti, ma non solo studenti perché quando pensiamo in città si dice da noi sempre gli studenti, ma non sono solo gli studenti perché ci sono tanti avventori che vengono dal territorio giustamente per vivere la città. Questo ci fa piacere, però bisogna farlo anche con dignità e con rispetto degli altri. Prima di passare alle domande dei cittadini che già ci stanno arrivando per lei e ai vari lavori pubblici in programma, vogliamo, Sindaco, un attimo chiarire quello che è inerente alle elezioni provinciali. Abbiamo letto anche questa mattina sui quotidiani alcune polemiche, ad esempio riportate dal Sindaco di Cartoceto, Enrico Rossi. Che cosa è successo con queste due liste? Ma è successo semplicemente quello che, sappiamo tutti che le elezioni della provincia vengono realizzate come ente di secondo livello, anche se nel nostro statuto a livello nazionale, nella Costituzione c'è scritto che la provincia dovrebbero essere elette dai cittadini. Non è passata la riforma, ma continuiamo a leggerlo così. Questa è già un'anomalia. Ma in queste quattro elezioni, ogni due anni c'è la rinomina del Consiglio provinciale, il Presidente non decade, decade fra due anni. Però anche l'altra volta gli amministratori locali, i sindaci, anche non quelli di centro-sinistra che sono la maggior parte a livello provinciale, volevano condividere una lista unica. Perché essendo un ente di secondo livello governato dai comuni, quindi i consiglieri sono o sindaci o consiglieri comunali, volevano condividere. Alla fine i partiti hanno voluto fare una lista contrapposta, abbiamo perso l'opportunità di avere due consiglieri in più, anche nella legislatura scaduta, che scade proprio a fine anno. E adesso abbiamo fatto delle riunioni dove su 14 sindaci, in queste riunioni che diciamo che non sono di centro-sinistra, ma sono liste civiche o centro-destra, 13 su 14, escluso Enrico Rossi, del Comune di Cartoceto, volevano realizzare una lista unica per poter condividere il governo provinciale. Proprio perché non c'è da fare una contrapposizione politica, ci sono da fare delle cose, questo è quello che ci interessa. Non è stato condiviso, l'abbiamo detto in queste riunioni, io per primo l'ho detto, si fa quello che decide la maggioranza, non solo quello che decidono i partiti. E alla fine Forza Italia, che non ha voluto abbandonare i comuni che erano seduti a questi tavoli, ha deciso di aderire a una lista unica, chiedendo chiaramente come unica forza politica tre componenti dentro la lista che ha il Presidente, perché poi è ancora in carica. Invece le forze politiche, le altre forze politiche centro-destra, hanno voluto fare un'altra lista. Infatti nell'altra lista non ci sono i sindaci, ma ci sono solo consiglieri comunali, se non un sindaco. Io non critico la posizione, ma dico che se gli amministratori chiedono una cosa, io credo che le forze politiche farebbero bene a condividerla, perché alla fine siamo noi che dobbiamo avere questi servizi dalla provincia. Quindi non vuol dire che adesso quelli che sono nella lista del Presidente saranno la maggioranza e quegli altri saranno l'opposizione. Perché io come consigliere di opposizione, se venissi eletto, come consigliere, scusate, provinciale, sarò un consigliere che farà le sue critiche quando ci sono da fare e ci sarà da proporre o da sostenere le proposte se sono valide. Perché vedete, io credo che a livello nazionale, lo stiamo dimostrando, c'è un governo che comprende una larga maggioranza. E quindi, per fortuna l'abbiamo realizzata, perché oggi se abbiamo questo governo, siamo visti diversamente da livello nazionale, perché grazie abbiamo avuto una fortuna grande, fortuna creata da qualcuno, bisogna pur dirlo, che ci ha permesso di accrescere la nostra credibilità nel mondo. Perché, guarda caso, quando oggi parla il nostro Presidente del Consiglio, ascolta anche il Presidente degli Stati Uniti. Non eravamo proprio in questa condizione sei mesi fa. Vorrei riportarlo nel piccolo a questo discorso provinciale. Nelle province non c'è da fare la lotta politica, c'è da fare le cose, c'è da fare i servizi ai cittadini, ci sono da realizzare le cose che i cittadini vogliono. E ce ne sarebbero tante da dire che, anche in questi giorni, nella kermess giornalistica di diverse persone che sostengono, per esempio, sulle scelte dell'Ata, sulle scelte degli impianti, sull'acqua, che si fa solo un discorso di opposizione politica e non di cose che veramente i cittadini vogliono. Perché se noi parliamo di invasi dell'acqua, dovevamo farli 50 anni fa, non li abbiamo realizzati. Abbiamo l'opportunità di progettare e realizzarli e adesso continuiamo a dire no. Oppure impianti come i biodigestori, che bisognava farli 10-15 anni fa, non sono stati realizzati e ancora continuiamo a dire che non sono da realizzare. Ecco, allora, io credo che, questo è un discorso complesso che ci vorrebbe più tempo per svilupparlo, ma credo che se noi continuiamo a fare questa battaglia, no a qualsiasi cosa che si propone, rimarremmo purtroppo il fanalino di coda che non vogliamo rimanere. È stato chiarissimo. Che tempi ha una strada di scorrimento veloce Urbino-Pesaro, le chiedono? Allora, noi abbiamo concordato col sindaco di Pesaro, col presidente della provincia e con i sindaci della vallata del Foglia di lavorare con il ministero e abbiamo le prove che ci stanno lavorando e chiediamo alla regione di sostenerci in questo caso proprio perché la Pesaro-Urbino è una strada che dà un beneficio come ha raccolto il sindaco di Pesaro a noi come città dell'entroterra, alle altre città dell'entroterra ma anche a Pesaro perché avere una città come Urbino, avere il territorio più vicino alla costa da tutti i punti di vista ma soprattutto quello turistico è un beneficio grande anche per Pesaro. Questo è stato condiviso, su questo stiamo lavorando e speriamo che anche qui una cosa che doveva essere fatta forse 50-60 anni fa perché di strada il Pesaro-Urbino io mi ricordo di tutte le kermesse elettorali che ci sono state si è sempre parlato della Pesaro-Urbino, noi non ne vogliamo parlare e l'ho detto al sindaco collega di Pesaro, al di là delle appartenenze politiche noi dobbiamo lavorare in questo caso per realizzare questo progetto che è un progetto che è realizzabile specialmente in questo momento storico che se superiamo questa opportunità probabilmente staremo qui altri 50 anni a sperare che di farla. Anche la CNA nei giorni scorsi ha avanzato delle proposte che riguardano la fibra che riguardano le infrastrutture proprio in vista della candidatura a capitale europea della cultura e quindi interventi comunque importanti e necessari. Sì, sicuramente con CNA abbiamo condiviso un altro argomento fondamentale quello della fibra che purtroppo al di là dei proclami ancora non abbiamo ovunque questo servizio e noi dobbiamo accelerare assolutamente su questo tema è il tema che ho posto anche al Presidente della Regione che invitandolo in Consiglio Comunale a venire a relazionare sulle strategie e anche qui vorrei dire una cosa cioè noi abbiamo in questa legislatura regionale tre assessori provinciali che stanno lavorando alla cremente su più fronti però c'è bisogno, l'ho detto al Presidente, di un coordinamento io voglio sapere il Presidente Acquaroli cosa vuol fare per questa provincia perché purtroppo nella pandemia in cui si è insediata questa giunta non è una colpa ma è una contingenza è chiaro che è stato difficile partire con un governo nuovo regionale con tutte le problematiche di discontinuità che si vuole realizzare quindi avere una lettura chiara di quello che vuole la Regione quindi il Presidente perché io guardo a lui e l'ho chiesto di venire a Urbino a relazionare perché poi come comune diciamo al centro della provincia non per Urbino ma cosa si vuole fare su tutta la provincia sulla sanità, sulla viabilità, sulla ferrovia, sulle piste ciclabili ecco avere un quadro dove tutti noi ci possiamo riferire e tutti noi amministratori locali, regionali, provinciali possiamo percorrerla non rischiando di contrapporci e creare degli attriti che non ci servono ci serve lavorare specialmente in un momento come questo storico dove abbiamo questa grande opportunità di progettare delle cose che probabilmente riusciremo a realizzare quindi ecco avere una visione unica e questa ce la può dare il Presidente Acquaroli è questo che gli chiediamo Visto che ha citato la sanità, le chiedo proprio una sua opinione a riguardo dell'ospedale ormai non più unico ma nuovo a Pesaro Io credo che la Regione ha fatto bene a scegliere questo luogo che poi devo dire, devo fare questo io da Presidente della Riavasta nella passata legislatura ho dato un buon contributo per posizionare l'ospedale in quel luogo ma perché era un punto di mediazione che serviva e anche in questo momento credo che il Presidente Acquaroli e la sua Giunta abbiano fatto bene a decidere di realizzarlo lì perché noi abbiamo bisogno di realizzarlo, non sarà più l'ospedale unico che voleva la presente amministrazione però siccome ci sono le risorse economiche vanno spese subito è lo stesso principio che dicevo appunto prima che raccontavo prima su altri temi questo è un momento storico dove non ci possiamo permettere di non progettare, di non procedere e investire le risorse che abbiamo a disposizione siccome le risorse ci sono Presidente Acquaroli giustamente concordando con gli amministratori di Pesaro con Ricci e con gli altri amministratori probabilmente hanno deciso di procedere in quella strada l'hanno comunicato potevano farlo diversamente perché magari è un risultato di tutti e non solo di qualcuno doveva essere però credo che abbia fatto bene a decidere di farlo in quel luogo e però adesso noi vogliamo sapere cosa succede a Urbino cosa succede a Fano e cosa succede a Suggiari questo è quello che gli chiederò se avrò l'opportunità di dirglielo ma pubblicamente in consiglio comunale perché noi non abbiamo bisogno di riunione a Carbonare perché le cose che si dicono si devono fare e quindi bisogna fare delle scelte e perseguirle Quali sono le necessità per l'ospedale di Urbino? Moltissime non abbiamo migliorato rispetto alla condizione di prima di un anno fa questo lo devo dire chiaramente questo che ho denunciato anche lo stesso Assessore Saltamartini al quale ho chiesto di venire a relazionare insieme al Presidente Acquaroli in consiglio comunale visto che ormai l'area vasta non la presidio più io ma ho detto chiaro non sono state rispettate e questo entrerebbe anche nell'argomento di prima per dire quanto io non sono con l'attuale Presidente della Riavasta che è l'attuale Presidente della Provincia ma questo non vuol dire che non lavorerò per il bene comune e per la nostra città però ecco noi abbiamo bisogno di capire cosa succede a Urbino perché Urbino che è ormai il riferimento di tutto l'entroterra come ospedale abbiamo bisogno di fare tante cose personale, struttura ampiamento di alcuni reparti diciamo impiantistica che abbiamo fermi dei macchinari che sono fermi lì da anni non vengono montati quindi abbiamo molte cose che non vanno all'ospedale d'Urbino tantissime e su questo a breve ci dovrà essere una risposta perché ad oggi anche capendo le problematiche anche del turnover sulla questione dirigenziale sulle scelte che l'amministrazione regionale dovrà fare perché come ho detto prima sicuramente non è stato facile insediarsi in un momento di pandemia come questo che ha portato via l'80% del tempo credo al governo regionale quindi ecco non mi accingo a fare delle critiche anche se fosse stato in una condizione normale già direi che sarebbe troppo tardi cioè io voglio sapere vorrei sapere come amministratore della città d'Urbino e qual è la direzione che vuol prendere la regione precisa in modo che noi come ne prendiamo atto discutiamo se non siamo d'accordo ma poi tutti remiamo dalla stessa parte per poter realizzare le cose che mettiamo in campo prima di andare in pubblicità e parlare di altri argomenti vorrei ritornare un attimo sul discorso delle strade se sono previsti comunque degli interventi di asfaltatura tanti interventi di asfaltatura purtroppo noi abbiamo appaltato circa 20 km di strade che dovevano essere realizzate nell'estate 2021 abbiamo avuto dei ritardi nell'assegnazione degli appalti e quindi gli appalti sono stati assegnati circa 20 giorni fa ormai saremmo costretti a parte alcuni tratti impercorribili per il resto saremmo costretti a spostarci alla stagione primaverile ma sapendo che già gli appalti sono stati assegnati le ditte hanno avuto l'assegnazione degli appalti e quindi non appena sarà possibile farlo compatibilmente con la stagione con gli eventi atmosferici procederemo a realizzarli sono tanti non stiamo qui a citarli ma già nel bilancio 2021 22 scusate stiamo prevedendo ulteriori un completamento di alcune strade bianche dovranno essere asfaltate del rifacimento di alcuni altri tratti perché veramente voglio completare un lavoro che ho fatto credo importante sulla viabilità principale ma anche su quella secondaria di tutto il territorio di Urbino che è un territorio grandissimo come tutti quanti sanno e con questo ci fermiamo per qualche istante di pubblicità a tra poco bene siamo ancora in diretta con il sindaco Maurizio Gambini allora cominciamo subito dalla prima fotografia che ci propone la regia e che riguarda dovrebbe riguardare da cosa partiamo dal marciapiede ecco anche questa una importante opera nodo di scambio di Santa Lucia quindi è uno dei tanti lavori che avete fatto ultimamente sindaco quelli che stiamo realizzando sì il più importante l'abbiamo realizzato come camminamento da Gadana verso Urbino quindi un quartiere importante che non era per niente collegato sia dal punto di vista dell'abilità pedonale ma anche dal punto di vista dell'illuminazione pubblica oggi i cittadini possono percorrere tranquillamente la sera in un luogo illuminato una passeggiata per andare diciamo che quasi due chilometri per raggiungere la città da Gadana e viceversa ma questi lavori del nodo di scambio di Santa Lucia per arrivare all'istituto d'arte perché di questo si tratta e tanti altri progetti di camminamenti che abbiamo in itinere via Don Minzoni le fiste ciclabili San Bernardino le Cesane il parco dell'Aquilone che adesso finalmente stiamo partendo col progetto quindi una serie di marciapiedi dalla piantata verso Castaccolo al nuovo santuario che è stato realizzato con l'eliporto collegato tanti progetti Mazzaferro il camminamento con Mazzaferro che ci è stato finanziato per un milione e trecentomila euro la fermata dell'autobus che comprende anche il camminamento via Girodibitori che non è questo questo che vediamo nelle immagini per il bando regionale a cui avete partecipato avete sostenuto dei finanziamenti abbiamo avuto dei finanziamenti in un progetto intercomunale e quindi ecco stiamo cercando di realizzare quelle infrastrutture pedonali e ciclabili che non sono così facili da realizzare Urbino perché come noto noi in ogni strada abbiamo a valle e a monte una scarpata quindi realizzarli è complesso da un punto di vista strutturale non è come realizzare una infrastruttura come questa in una vallata o in una città come Pesaro o Fano che normalmente intorno alla strada accanto alla strada c'è uno spazio per realizzarlo con facilità da noi ogni cosa è molto complicata e invece per il cimitero di San Bernardino avete richiesto un contributo agli reti e già qualcuno insomma è venuto incontro sì cimitero di San Bernardino sono stati fatti tanti lavori di ristrutturazione interno ed esterno e adesso un nuovo contributo che ci permetterà di andare avanti con i lavori non completarli purtroppo dovremmo realizzare altri stralci per poter completare il restauro di questo di questo luogo bellissimo che anche se è un cimitero ma accanto abbiamo questo masoleo che è letteralmente storico e che è l'importanza che ha quindi ci teniamo particolarmente a che le cose vengano fatte bene in questo luogo invece per la rigenerazione urbana avete chiesto al ministero 35 milioni per due progetti come sta procedendo ci sono delle novità diciamo che il primo quello che comprende Palazzo Gerardi l'ex tribunale con collegato il Belvedere appunto accanto è la OSCA diciamo l'acquisizione della OSCA che abbiamo realizzato pur non avendo ancora avuto i fondi che sono stati diciamo il progetto è stato approvato ma non finanziato verrà finanziato nel bilancio nella legge di bilancio 2022 come ci è già stato assicurato siamo in gradatoria ammissibili però abbiamo già acquisito l'area della OSCA per 710 mila euro col bilancio comunale anche qui abbiamo fatto uno sforzo importante perché è un luogo che ci teniamo particolarmente poi l'altro progetto quello da 20 milioni di euro che comprende l'accompletamento della data i lavori del mercatale per realizzare una piazza diversa da quella che è attualmente l'area delle vigne l'area del Belvedere dietro il tribunale la Palazzo De Rossi la ex caserma dei carabinieri di Schieti e quindi tante opere per completare veramente completare i lavori che ci sono da fare in città diciamo che a questo punto se questo progetto viene finanziato come non abbiamo dubbi che sia perché ovviamente oggi il difficile è progettare perché come noto le risorse ci sono se verrà finanziato credo che abbiamo quasi completato tutte le opere per la riqualificazione complessiva dell'area della città di Urbino e anche alcune frazioni alcuni luoghi delle frazioni dove noi per esempio a Mazzaferro abbiamo acquisito una casa per realizzare la piazza in modo diverso migliorare la viabilità tra anni abbiamo acquisito come comune l'ex K2 che i cittadini che ci ascoltano magari anche non solo di Urbino sono andati a ballare era una proprietà dell'ex partito comunista che è andato purtroppo all'asta noi l'abbiamo acquisita per realizzare una piazza quindi in ogni luogo in ogni borgo frazione della nostra città del nostro territorio stiamo intervenendo per poter realizzare maggior vivibilità perché quartieri come Mazzaferro come Trasanni come Gadana che anche Gadana anche lì abbiamo acquisito un'area abbiamo realizzato un parcheggio adesso ma verrà realizzata una sala civica quindi per realizzare il centro di questi luoghi che sono stati pensati senza una piazza senza un luogo come d'altronde Canavaccio che ha 1500 abitanti ma non ha un luogo dove ritrovarsi uno si deve ritrovare in mezzo alla strada non mi pare dignitoso quindi noi da quando io mi sono insediato sto lavorando per cercare di realizzare tutti questi spazi per rendere più vivibili i quartieri i borghi e le frazioni del nostro territorio quindi questo questo è il lavoro che stiamo continuando a fare e cominciamo a vedere la forma di un lavoro importante che stiamo facendo le chiedono a quando una superstrada Canavaccio bivio-borzaga perché è pericolosissima sì la superstrada dovrebbe essere la Fano Grosseto definitivamente però abbiamo una diciamo un ampliamento una modifica della strada che è stata progettata da Anas ci è stato chiesto sono due progetti possibili alternativi diciamo quello più importante prevede l'abbattimento di una casa che però credo sia difficile da realizzare ma comunque il miglioramento si riesce comunque a realizzare per rendere meno pericoloso meno angusto quella curva e quindi ecco a breve io credo da Anas verrà realizzata mi stanno pressando per poter decidere quale alternativa di queste due possibilità ecco quindi la settimana prossima un incontro con Anas già fissato e quindi anche di questo parleremo compreso la viabilità di Mazzaferro i cittadini di Mazzaferro sanno bene quanto aspettano questo marciapiede per Mazzaferro perché è un luogo veramente dove la gente vuole andare a camminare e purtroppo però insiste sul percorso Anas sulla strada Anas e con Anas è sempre molto lungo il percorso per riuscire a realizzarlo ma adesso siamo in dirittura d'arrivo perché abbiamo tutto le risorse l'autorizzazione di Anas dobbiamo solo concordare il progetto e il lavoro proprio il periodo dove si interviverà e risorse ci sono anche per lo stadio Montefeltro però in questo caso grazie al bando sport e periferie e quindi nazionale tempistiche sindaco? allora è stato approvato il bando sport e periferie dove noi mettiamo 200 mila euro del bilancio comunale 400 circa del bando sport e periferie nel 2022 noi dovremmo realizzare il progetto e che prendiamo nei primi mesi del 2023 dovremmo completare l'opera perché adesso non ricordo bene i tempi che dobbiamo rispettare ma ci sono tempi molto stretti per realizzarla quindi e cosa comprende il progetto? il progetto comprende il rifacimento di tutta la pista d'atletica le tribune gli spogliatoi il miglioramento di tutta la struttura che già comunque è una bella struttura ma queste opere vanno realizzate perché sono ormai obsolete perché la pista la pista è proprio messa male quindi va realizzata però potrebbe diventare un punto di riferimento per l'atletica leggera con questo intervento assolutamente assolutamente tra l'altro abbiamo ospiti appunto la pallavolo la categoria 1 di Montecchio che è venuta a giocare il nostro palazzetto la nostra squadra di Urbino Calcio finalmente torna a splendere comincia a riprendere il vigore che una volta Urbino aveva una squadra veramente eccellente adesso adesso stiamo anche noi seguendo aiutando queste società perché possono veramente con difficoltà ma credo che ci sia tutti i numeri per poter riprendere un'attività sportiva adeguata a quella che è la città a proposito di sport c'è un progetto che riguarda anche la palestra della scuola del libro sì la palestra della piantata che anche questa è stata contestata dai cittadini della piantata perché viene realizzata su un campetto che oggi è all'aperto ma c'è lo spazio sia per il campetto che per la palestra quindi è un progetto che porta avanti la provincia e noi abbiamo dato il nostro senso che però non sarà provvisoria diciamo per la scuola perché la scuola c'è già un progetto che lo studio di Carlo sta portando avanti per completare la scuola del libro anche se non come il progetto originale perché chiaramente sarà realizzato in maniera più contenuta però anche lì dovrà essere realizzata la palestra definitiva quella che accanto alla scuola all'interno dell'ortlesso scolastico verrà realizzata quindi diciamo questa parte della piantata sarà temporanea per la scuola perché poi rimarrà al quartiere della piantata e io ho intenzione assolutamente di andare avanti perché in questo caso ci sono state delle contestazioni da parte dei cittadini perché non la vogliono io invece credo che a breve andrò a industriare quello che vorremmo fare e credo che ci potrà essere solo una condivisione da parte di quei cittadini chiedono lo svincolo hotel meridiana che punto è? lo svincolo dell'hotel meridiana è al punto che noi abbiamo acquisito il terreno che era il nostro compito come amministrazione comunale la ditta che deve realizzare le opere di urbanizzazione che comprendono lo svincolo sta disquisendo con Anas perché la strada a Pesolo-Urbino adesso è diventata Anas e lì diciamo c'è il problema dell'unidirezionalità cioè uscendo dalla meridiana si può andare solo verso Urbino arrivare alla rotatoria e tornare verso Pesolo se uno vuole andare verso Pesolo quindi ecco c'è questo problema che stanno risolvendo in questi giorni da quello che so con Anas però è una cosa che riguarda appunto questa ditta che deve realizzare l'opera noi stiamo solo contribuendo dando i nostri suggerimenti speriamo di essere in dirittura d'arrivo ecco ne parlavamo proprio prima di via giro dei debitori ci hanno detto che è necessario un marciapiede se ne parla da più di dieci anni una delle vie più importanti e anche pericolose oltretutto ci sono scuole case negozi e uffici assolutamente però voglio ricordare ai cittadini che in via giro dei debitori non c'era un metro di marciapiede noi appena insediati ci siamo realizzati il primo pezzo quello che era possibile abbiamo realizzato un parcheggio che sembrava impossibile che ha ridato un'altra vita alle attività commerciali e a tutti quelli che abitano in quell'area anche i residenti e credo che è tutta un'altra cosa e adesso abbiamo avuto il finanziamento per realizzare la fermata dell'autobus quindi l'isola dove si può fermare l'autobus e realizzare il marciapiede e quindi diciamo non dovremmo più assistere alla discesa comunque tutti i ragazzi che si fermano per prendere i pullman o per scendere la mattina dai pullman che è veramente pericoloso e non decoroso diciamo così però ecco anche questo progetto insieme a quello di Mazzaferro è stato approvato proprio un mese fa abbiamo avuto il decreto aspettiamo le linee guida da adottare ma anche lì un milione e duecento mila euro per realizzare questo spazio e la discesa per le scuole quindi non avremo più quella confusione la mattina il giorno dell'uscita delle scuole quindi ecco io capisco che questi progetti si aspettano da molti anni però ecco prima che arrivava questa amministrazione nessuno neanche ha mai pensato di realizzarli proprio sembrava impossibile realizzarli come il parcheggio di cui sto parlando che oggi veramente ha dato un altro respiro a quella località a quella via vi chiedo di fare proprio un botte risposta perché abbiamo ancora pochi minuti ma diverse domande da farle l'asilo di Pieve di Cagna sarà chiuso o rimarrà? l'asilo di Pieve di Cagna noi vogliamo tenerlo aperto i cittadini di Pieve di Cagna sanno bene quanto abbiamo fatto con una purtroppo pochissimi bambini senza dire il numero perché se dovessimo guardare all'economia sarebbe da chiudere ma non lo vogliamo chiudere questo lo voglio dire chiaramente fino all'ultimo noi pensiamo di comunque di lasciarlo aperto di tenerlo aperto perché è un servizio che non possiamo togliere in quel luogo ci ha scritto anche dalla direzione artistica del Teatro Cast 2000 un centro di formazione teatrale da più di 40 anni e le chiedono se possono sperare in un aiuto economico un intervento per poter ristrutturare al meglio lo spazio affidato all'associazione che già da un anno è incomodato d'uso adesso c'è un lungo messaggio però purtroppo non abbiamo abbiamo tempi stretti sì sicuramente lo possono sperare questa associazione lo sa bene che abbiamo dato lo spazio quando potevamo il contributo sulle attività quindi credo che questo questa presidente di questa associazione sa bene che noi abbiamo la massima disponibilità non a questa associazione ma a tutte le associazioni se guardiamo quanti quanti abbiamo aiutato in questi anni veramente noi siamo siamo convinti che queste sono la vita della città e su questi siamo sempre disponibili da investirci è confermata la presenza della Castellati per giovedì? è confermata assolutamente è stata rinviata per motivo della diciamo della quarantena della giunta regionale quindi non per colpa della della presidente o per altri motivi ma purtroppo c'è stata questa contingenza sempre legata alla pandemia giovedì è confermata e chiederemo delle cose alla presidente al di là della commemorazione di Carlo Bo che è stato un grande uomo una grande persona per la nostra città però abbiamo delle richieste collegate da fargli quindi sempre dal punto di vista culturale? sì culturale e anche pratico perché abbiamo bisogno uno degli elementi importanti per noi è sancire definitivamente che Urbino è co-capoluogo di provincia perché dall'Unione d'Italia dalla Costituzione dall'Ottocento ancora non sono stati fatti dei passaggi parlamentari che ci sono stati promessi e condivisi con Pesaro e la provincia quindi di questo anche di questo parleremo ci hanno chiesto anche ancora della fibra ottica quando inizieranno i lavori vi invito comunque a rivedere tutta la puntata perché sono diversi gli argomenti che abbiamo affrontato in questa oretta quasi quindi la potrete rivedere anche sulla nostra pagina Facebook Occhio alla Notizia YouTube eccetera parliamo di cultura ma c'è anche un comitato che unirà Urbino e Gubbio sì c'è il comitato delle celebrazioni di Federico da Montefeltro che è un grande avvenimento per la nostra città incrociamo le dita speriamo che vada meglio a livello di pandemia rispetto a Raffaello perché veramente è stata una grande occasione per la città questo comitato è stato finanziato devo dire per ora non si capisce ancora la legge cosa prevederà però per ora il comitato è stato finanziato con poche risorse 160 mila euro a livello dei due comuni delle due regioni però ecco speriamo che riusciamo a portare avanti le attività che abbiamo programmato e ne abbiamo tante altre come fra l'altro chiediamo di avere c'è stato anche la richiesta di adesione di tante altre città come Urbagna come Calvi e altre città che adesso non sto a citare perché magari mi dimentico qualcuno e anche città dell'Umbria che vogliono aderire a questo momento e io sono stato insieme al sindaco di Gubbio che io è una persona che stimo molto è una persona l'ultimo messaggio dei telespettatori e poi passiamo al Natale chiudiamo con le iniziative volevo aggiornamenti sulla riqualificazione di Urbino 2 un residente noi abbiamo in questi giorni stiamo assegnando le opere di urbanizzazione per un milione di euro di opere per riqualificare l'area ERAP con l'accelerazione che è l'assessore Aguzzi e devo pubblicamente e formalmente ringraziarlo perché noi abbiamo le risorse economiche da diversi anni ma diciamo che ERAP stava nicchiando un po' l'assessore Aguzzi ha chiesto a ERAP l'assessore di riferimento di procedere velocemente ERAP ha già acquisito il 90% degli appartamenti perché purtroppo si dice riqualificazione ma sono appartamenti privati sono stati acquisiti secondo progetto delle periferie degradate della legge regionale prima e adesso siamo in dirittura ad arriva per appaltare i lavori sia per le opere di urbanizzazione che per l'acquisizione e la ristrutturazione delle case il quartiere di Urbino 2 dovrà diventare il quartiere più più qualificato della nostra regione questo è l'obiettivo io sono convinto che ci riusciamo perché abbiamo tutte le risorse economiche la volontà e lo spirito giusto per poterlo fare se il progetto se il progetto della regione se l'assessore ci segue come ci sta seguendo credo che presto vedremo i frutti chiudiamo con il Natale Sindaco perché abbiamo davvero pochissimi minuti parliamo di luminare parliamo di albero e iniziative che si prolungano fino all'epifania quest'anno quindi un po' la novità sempre in sicurezza diciamo che abbiamo acceso le luci l'albero di Natale la piazza però non abbiamo realizzato eventi che potessero rischiare di fare assembramenti importanti abbiamo deciso di fare degli eventi diluiti in progress alcuni eventi ci saranno quindi invito tutti a venire ad Urbino con delle proiezioni con dei momenti che potessero diciamo che già nell'immagine lo vediamo solo per l'accensione c'è stata un po' troppa gente quindi l'obiettivo è quello di venire a Urbino di vivere la città ma diluiti un po' durante tutte le feste questo è l'obiettivo dell'amministrazione ecco delle proiezioni che saranno realizzate dal 15 di dicembre fino al 6 di gennaio quindi ogni volta che deciderete di venire a Urbino troverete uno spettacolo diciamo da vivere a in qualsiasi ora della sera quindi ecco non c'è bisogno e questo crediamo che sia più produttivo anche per le attività commerciali non avere la massa in una volta poi magari finire l'evento lì e poi le vie dei presepi si le vie dei presepi comunque appunto vengono realizzate quindi come sempre potrete visitarli è un momento speciale per per chi vuol vivere Natale nella serenità e quindi vedere i presepi ad Urbino è veramente una cosa emozionante quindi potete venire a Urbino a vedere qualcosa di speciale ogni giorno dal 15 di dicembre da subito ma dal 15 di dicembre in poi vedrete una città illuminata diversamente con delle proiezioni che veramente vi dovrebbero colpire quindi potete venire quando volete in ogni momento del pomeriggio della sera che vedrete queste proiezioni Sindaco grazie veramente per il tempo che ha dedicato a noi e soprattutto ai nostri telespettatori si auguro naturalmente buone feste buon Natale a tutti buone feste e che facciamo gli scongiuri con l'aiuto di tutti di continuare a vaccinarsi perché è l'unico modo per uscirne portare la mascherina come alcuni sindaci in apertura abbiamo detto hanno messo l'obbligo però io credo che col buon senso di tutti noi ne usciamo e quindi augurandovi buon Natale di porre sempre la massima attenzione grazie ancora Maurizio Gambini vi ricordo che l'appuntamento con l'informazione è previsto per domani mattina alle 7 con la nostra rassegna stampa arrivederci buonasera